Ingredienti Dosi per 4 persone 200 grammi di riso Burro 200 grammi di midollo di bue Un bicchiere di vino bianco secco Parmigiano grattugiato Una bustina di zafferano Una cipolla Due litri di brodo di carne Preparazione In una pentola fai dorare la cipolla tagliuzzata insieme al midollo di bue e burro Con il brodo Metti il riso Aggiungi il brodo e vino Man mano che il riso si asciuga Il piatto è pronto Buon appetito